Ciao a tutti ragazzi, sono Gianmarco Tamberi e sto facendo questo video per augurare un buon anniversario ad ANG, all'agenzia che quest'oggi compie 10 anni e al programma Erasmus che invece ne compie 30. Ma in realtà lo scopo di questo video è un po' diverso, è sicuramente invitarvi tutti quanti l'8 e 9 novembre a Roma, al Tempio di Adriano, per partecipare all'evento organizzato dell'ANG. Ci sarà come tutti gli anni, ci saranno un sacco di personaggi importanti, un sacco di persone che porteranno la loro esperienza, ci insegneranno tantissime cose, quindi il mio consiglio più grande è partecipare. Mi hanno chiesto di portare una mia piccola testimonianza di quanto sia importante lo sport nella vita o qualsiasi cosa facciamo. Come qualcuno di voi sa, anno scorso ho avuto un grave infortunio poco prima delle Olimpiadi e credo che sia la cosa che più in assoluto mi abbia insegnato a stare al mondo quell'infortunio, mi abbia insegnato a capire cosa vuol dire amare le persone, cosa significa rincorrere un obiettivo che ci è appena sfuggito di mano, un sogno, rimettersi in gioco, rimettersi a provare di tutto per farcela. Quindi questo è il mio piccolo capitolo. Vi auguro veramente di poter andare a questo evento, di poter partecipare perché si imparano un sacco di cose e niente, non mi resta che dirvi è ora, è ora. Ciao ragazzi!